Avrebbe potuto avere un finale drammatico, la dita è scoppiata domenica sera tra due vicine a San Marzano di San Giuseppe, comune del versante orientale della provincia di Taranto. Un 34enne, al colmine di una volenta discussione, scaturita probabilmente per motivi legati alla suddivisione dei confini delle rispettive proprietà, avrebbe con la propria pistola regolarmente detenuta esploso un colpo per terra a scopo intimidatorio. La pattoglia, intervenuta sul posto dopo aver ricostruito la presunta dinamica dell'accaduto, ha proceduto ad un'accurata perquisizione domiciliare e stesa anche agli appezzamenti di terreno limitrofi. In un fondo, accanto ai fiori di girasole, sono state trovate quattro piante di cannabis indica con inflorescente alte circa un metro. All'interno dell'apitazione, poi, sono stati rinvenuti circa 600 grammi di marijuana confezionata e siccata riposta in dei contenitori di plastica, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato, mentre lo stupefacente è stato consegnato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Taranto per i successivi accertamenti. L'uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione delle autorità giudiziarie è stato sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di porto abusivo di arma da fuoco, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fini di spaccio e minaccia aggravata.